Sani, una Lega, due festi, ieri c'è Moni oggi qui. La Lega festeggia quest'oggi qui in piazza Pontestà, 40 anni di storia della Lega. Ieri c'era fuori da casa del capo, una riunione di persone che in questi anni hanno seguito percorsi diversi, anche esterni a partito. Io penso che il posto giusto per il capo sarebbe stato questo. Confido fino all'ultimo che possa arrivare. So che qualcuno non ha voluto farlo venire, ne prendiamo atto. Peccato perché per il capo sarebbe stata una bella festa in piazza questa. Grazie.